100.000 euro stanziati dalla regione, 5.000 agenti della Polizia Locale del Veneto, 26 giornate di corso. Parte così il 15 dicembre del progetto formativo. Saranno trattati argomenti quali il bullismo, i reati relativi al codice stradale, la sicurezza urbana ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'obiettivo è quello di dare gli strumenti necessari perché svolgano al meglio la loro attività. Il ruolo della Polizia Locale e le aspettative della comunità nei confronti della Polizia Locale è sempre più elevata e quindi è giusto che questi uomini, queste donne che indossano delle divise e che sono di fatto il primo balluardo delle amministrazioni locali nei confronti della cittadinanza sul tema della sicurezza abbiano un livello di formazione quanto più elevato possibile. Formazione che deve raggiungere tutti i comuni, anche quelli più piccoli, perché il livello possa essere uguale in tutti i corpi di Polizia Locale del Veneto. Gli agenti di Polizia Locale svolgono un compito di straordinaria importanza e hanno bisogno di avere una formazione adeguata a fronte dei continui cambiamenti normativi, anche del mutare delle problematiche in materia di sicurezza e dei cambiamenti della nostra società. Questo corso garantirà, dopo aver anche ascoltato da parte dei comuni quali sono le esigenze principali in tema di formazione, garantirà un adeguato livello di formazione attraverso delle lezioni online teoriche e delle lezioni pratiche. La speranza è che possa essere formato almeno il 20% del corpo della Polizia Locale Veneta. Per la regione termina l'assessore Corazzari, la formazione ed il sostegno alle politiche integrate per la sicurezza nel territorio regionale sono delle priorità. Grazie a tutti.